Questa volontà di essere amici con tutti i paesi dell'area del Mediterraneo l'abbiamo trasformata in relazioni concrete e io posso dire davvero di avere un'amicizia personale, in molti casi profonda, con tutti i leader dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ringrazio la forte rappresentanza, non manca un paese, di quelli che si affacciano sulle soglie del Mediterraneo. Qualche volta portatevi anche qualche bella ragazza, signori ambasciatori, perché so che anche questo è un merito che tutti quanti siete molto orgogliosi di portare avanti e noi lo apprezzeremo molto perché noi siamo latini. Io non sono più un playboy, sono un playhold, ma ci teniamo ad avere la possibilità di manifestare il nostro senso estetico.